24 agosto, 20-24 Tallinn in Estonia, dalla vista del Lounge Bar di Tallinn. Ci accendiamo a prendere un cocktail. Puro io. Ecco qua, Melissa. Questa è la vista panoramica di sotto. Tallinn. Insomma, ecco qui che ci accendiamo a prendere il nostro cocktail. Che cosa abbiamo preso? Not a regular bar. Ah, ok. Red currant. Ok. Yellow bell pepper. Ok, thanks so much. E ci sono un po' di io, saluta. Ciao a tutti. Ok. Ciao a tutti.